ciao a tutti ragazzi sono matti eccoci dopo tanto tempo in un nuovo video cominciamo a scattare due bursini dual masters sempre di m07 come vedete pezzo del 50 in edicola arrivano tipo ogni 6 mesi cominciamo speriamo di trovare l'eolo vediamo subito carta puzzle forse questa mi manca bene poi ho vortice terribile mi pare che mi manca carica d'energia pesce zebra schizzo wow che artwork flutto eterno corno ulticante lo scavatore portale miracoloso selvaggio super centauro garan garatiano di latina abissale e lo gusta di lancio nessuna olo continuiamo con la seconda sulla bustina sempre 10 carte per mazzo sempre di m07 scuola oceanico bellissima corazza merita bonda john shane calcaliere speciale carica dell'energia l'oppione dell'energia l'oppione pop letta lo danzante tipo fata sembra questo dai tipo pesa yugioo bella 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 rody gae guardiano della notte quest'onda terrore cieli cosmico passione mutante e sciame di titanio queste doppioni sicuramente nessuna olo che peccato rivediamo quelle che ho trovato delle belle oro le ho trovate nei short che ho caricato ultimamente peccato questo giro niente ragazzi ci vediamo un prossimo video non so se nel pacchetto ancora vediamo se ne troverò ciao a tutti alla prossima ciao